Con l'incertezza del futuro e nelle stesse ore in cui il Governo discuteva e votava la Spending Review, il Consiglio provinciale ha approvato con i soli voti della maggioranza il rendiconto di gestione del 2011. Dal documento che in qualche modo formalizza i risultati di gestione indicati nel bilancio dell'ente, emerge che la provincia di Lucca gode di buone condizioni finanziarie. Nel corso dell'anno passato non sono stati accesi nuovi mutui, non ci sono titoli derivati, le previsioni di entrata sono state confermate e l'avanzo di amministrazione 2010 è stato utilizzato in maniera virtuosa, con una sua applicazione per investimenti nella viabilità e nell'edilizia scolastica e per la riduzione dell'indebitamento. Settori questi su cui l'amministrazione provinciale intende investire anche l'avanzo del 2011, che è di oltre 3,6 milioni di euro. A strangolare Palazzo Ducale è però il patto di stabilità, che chiude le casse agli enti privandoli di pagare le ditte che lavorano. Sforare il patto di stabilità per pagare i fornitori è infatti impossibile, in quanto la sanzione sarebbe non più del 3%, ma del 100%. E su un importo di 2,8 milioni per il 2012 e di 11,7 milioni per il 2013, le cifre diventerebbero davvero ingestibili, sottolinea il presidente della provincia Stefano Baccelli.